Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Il vertice dell'Unione Europea di ieri è un buon osservatorio, credo, per analizzare le prime, concretissime mosse politiche di Mario Draghi. Può oltretutto essere un buon osservatorio per comprendere se davvero l'ex uomo di Goldman Sachs e della BCE, come taluni dicono, si è redento e ha abbandonato la sua pregressa fede liberista. Ebbene, dall'affer di Draghi che ha copiato, ricorderete, la parte più grave non è il plagio in sé, ma l'identità del plagiato. Giavazzi è un liberista di ortodossa fede, nonché un cultore delle privatizzazioni e dell'austerity. Sicché è davvero difficile pensare che Draghi si sia convertito, ma ad ogni modo, lasciando da parte questa parentesi, torniamo al vertice dell'Unione Europea. Tra i temi trattati occupa un posto di primissimo piano quello della vaccinazione di massa legata al Covid-19. Mario Draghi, come prevedibile, ha assunto posizioni che potremmo ragionevolmente definire radicali. Accelerazione dei vaccini, seria presa in esame dell'ipotesi del certificato vaccinale, per dirne due. Quest'ultimo, cioè il certificato vaccinale, è stato apertamente salutato da Mario Draghi come un provvedimento fecondo, indispensabile, da che permetterebbe, dice Mario Draghi, di riaprire rapidamente e di garantire la mobilità in Europa. Come a dire che senza il certificato vaccinale non è possibile né riaprire né spostarsi per l'Europa. Addirittura Mario Draghi ieri ha parlato di trattative europee per incrementare la produzione di vaccini. E ha altresì precisato che non è questo il momento di essere solidali con i più deboli. Peraltro senza specificare ovviamente che dal punto di vista della dottrina liberista quel momento non arriverà mai. Insomma, già da questi primi movimenti del nuovo premier ci pare di poter rilevare un duplice aspetto. In primo luogo Mario Draghi resta saldamente legato a una visione liberista, che è quella dei mercati, della classe dominante, dei tecnocrati repressivi di Bruxelles, e senza la quale non si spiegherebbe davvero perché Mario Draghi sia stato calato dall'alto sull'Italia proprio in questo momento particolare. In secondo luogo dal vertice dell'Unione Europea di ieri apprendiamo che in tema di ordine sanitario Mario Draghi si colloca, come già peraltro sospettavamo, in piena continuità con il pavido governo dei Guitti in Livrea Giallofucsia che l'ha preceduto. La conferma del ministro Speranza anche all'interno del governo di Mario Draghi come ministro della Salute ne è la prova più mortificante, vorrei dire. Insomma, anche con Mario Draghi procede indefessamente il miserrimo tempo dei lockdown, dei coprifuoco e dei divieti di assembramento. Privede tutto questo che ancora per un mese, come si diceva, durerà questa situazione. Di fatto ci dicono ancora adesso che bisogna chiudere tutto per riaprire più avanti. E secondo questa dinamica, che non saprei qualificare altrimenti se non la meccanica dell'asino e della carota, ci indurranno ancora una volta ad accettare l'inaccettabile, pensando per di più che ciò sia fin di bene. Ebbene, non capite che anche sotto questo riguardo Mario Draghi non è altro che la continuazione di Giuseppe Conte? Non riuscite davvero a comprendere come, con Draghi o con Conte, poco importa, l'ordine terapeutico abbia ormai preso il sopravvento nella forma di una pandemia infinita che dà luogo a una emergenzialità infinita in quanto a misure repressive?